Buongiorno, ben trovati, nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa, giovedì 7 gennaio 2016, apriamo con il Santo del giorno che viene ricordato nella giornata odierna dalla Chiesa Cattolica, si tratta di San Raimondo di Penafor, sacerdote dell'Ordine dei Predicatori, insigne conoscitore del diritto canonico, scrisse rettamente e fruttuosamente sul sacramento della penitenza e eletto maestro generale, preparò una nuova redazione delle Costituzioni nell'Ordine, in avanzata vecchiaia Barcellona in Spagna si addormentò pienamente nel signore Nacque Raimondo alla fine del 1175 in Penafor, castello della Catalogna appartenente alla sua famiglia, studiò retorica e filosofia a Barcellona, passando poi a Bologna per laurearsi in legge, conseguita la laurea dottorale, fu eletto professore di diritto canonico e poi una vita dedicata alla Chiesa con il riconoscimento da parte del Papa, della fatica compiuta, caduto ammalato approfittò dell'occasione per ritornare al suo primo amore, al monastero che gli fu concesso, se ne tornò il santo quale era partito povero, senza pensioni, senza cariche, in nulla distinguendosi dagli altri ordini religiosi. Papa Celestino IV e i suoi successori gli affidarono continuamente affari delicati e difficili. Il re Giacomo d'Aragona lo elesse, suo confessore, fu chiamato a ricevere la corona delle sue fatiche nell'anno 1275 in età di 100 anni. Dunque questo è il ricordo di San Raimondo de Penafort che viene venerato dalla Chiesa Cattolica proprio nella giornata di oggi. Noi apriamo la nostra rassegna stampa con le prime pagine delle quattro edizioni del centro, del quotidiano d'Abruzzo, partendo dall'edizione di Pescara per andare a vedere insieme quali sono i titoli principali che poi sono trattati all'interno del giornale. Partiamo proprio dall'edizione di Pescara del centro. Eccola qui, targhe alterne anche per auto a gas. Pescara divieti estesi a tutti i mezzi. Alessandrini dice misura inevitabile, questa la dichiarazione del primo cittadino di Pescara. E poi il concerto a Roseto, il volo fa il pienone con fan di tutte le età. Ieri sera al Palamaggetti, nella seconda parte vi proporremo delle immagini su questo evento. E poi i petriolieri al Tar, Ombrina va sbloccata, ricorso contro l'inerzia del Ministero. Dunque si preannunciano altre polemiche. E poi Piazza Primo Maggio attiva 30 precari, protestano in versi. E poi la Befana porta dolci, sorrisi e solidarietà. Tante manifestazioni in tutto l'Abruzzo per la giornata. della Befana che di fatto ha chiuso le festività natalizie e di fine anno. E poi l'ultimo titolo che riguarda lo sport, eccolo qui di spalla, il Pescara. Oddo dice, Pescara deve lottare per la Serie A. Vediamo, lasciamo l'edizione del centro di Pescara per andare a vedere insieme l'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro. Anche in questo caso daremo uno sguardo ai titoli che riguardano la prima pagina. In questo caso il titolo principale riguarda proprio Ombrina perché i petrolieri vanno al contrattacco, scatta il ricorso al Tar. Il Ministero ci faccia iniziare le estrazioni. E poi la fotonotizia di centro pagina che riguarda lo sport. Ieri si è giocato in Serie D. Prima giornata di ritorno. Il Chieti ha espugnato il campo dell'Agnonese. Bene anche la Proger nella Serie A2 di Pallacanestro. I teatini hanno battuto Iesi. Altri titoli che ritroveremo all'interno del giornale. L'altra faccia degli sconti multati. Dieci negozi per i saldi anticipati a Lanciano. E a Chieti esami e lezioni senza date. Psicologia. La rivolta dei 2.000 studenti. Poi andiamo un attimo in alto per vedere un titolo che riguarda la Lotteria Italia perché ieri c'è stata l'estrazione dei premi. I premi da 50.000 euro sono stati estratti con biglietti venduti a Miglianico e Torino di Sangro. E dunque una buona notizia per i due possessori che comunque potranno portare a casa un bel gruzzolo. Lasciamo l'edizione di Chieti Lanciano Vasto del Centro. Andiamo a vedere insieme l'edizione di Teramo. E poi chiuderemo con l'edizione di L'Aquila Avezzano Sulmona. Vediamo l'edizione teramana del Centro. La prima pagina. Eccola qui. Di Stanislao licenziato dalla ASL. L'ex parlamentare è incompatibile perché fa anche l'imprenditore. Questa è la notizia principale d'apertura dell'edizione del Centro di Teramo. E poi nelle cronache l'idea. Parco fluviale gestito dai teramani. Parte un forum su Teramo Futura. Poi a Giulianova una fiera fantasma sul corso. Niente bancarelle. Poi anche qui il richiamo di sport ovviamente riguardo formazioni dell'area teramana. Con Roseto che nella Serie A2 di basket al contrario di Chieti perde in casa del Treviso. Giulianova K.O. in casa 1-0 con il Fano. La sconfitta della formazione allenata da Michele Gelsi. E poi ritroviamo a centro pagina il titolo che riguarda l'ovazione per il volo gremito. Il Palasporti, il Palamaggetti di Roseto. E chiudiamo con l'edizione del Centro di L'Aquila Avezzano e Sulmona. E poi passeremo a vedere anche le pagine del Messaggero. Poi vi preannuncio che nella seconda parte ci sarà un'ampia pagina dedicata allo sport. Vedremo i servizi delle partite del campionato di Serie D. Perché ieri si sono giocate le gare, come dicevamo, della prima giornata di ritorno. E' andata così così per le formazioni abruzzesi. Poi vedremo però nel dettaglio i risultati, classifica e soprattutto i servizi delle varie partite. Chiudiamo, come detto, con le prime pagine dei nostri quotidiani. Siamo alla prima pagina del Centro edizione dell'Aquila. Andiamo a vedere qual è il titolo principale. Eccolo qui, troppe case, rischio o speculazione. Siamo all'Aquila, alla corsa dei grandi gruppi, ad acquistare immobili. Da chi va via? Questo è il titolo principale. Poi una notizia che riguarda la politica ad Avezzano, perché il sindaco di Pangrazio ha nominato la stati assessore. Dunque entra in giunta, ma ci sono, come si legge anche in questo titolo, delle polemiche. Poi fondi e media, il regalo di Silveri nel mirino dell'ordine sul Mono. Anziana esce di casa e non torna da due giorni. Ricerche di questa anziana in Valle Peligna. Poi a Celano, colpo allo spaccio, bloccate 33 mila dosi. C'è stata questa operazione delle forze dell'ordine. Allora, lasciamo il centro con l'edizione dell'Aquila. Abbiamo visto tutte e quattro le prime pagine del quotidiano d'Abruzzo. Andiamo invece a vedere il messaggero, partendo dalla prima pagina del quotidiano di Roma, che ovviamente tratta argomenti di carattere nazionale. Il primo titolo, il titolo principale, eccolo qui, non poteva che riguardare la Corea del Nord, l'incubo della bomba H. Pyong Pyong annuncia test con un ordigno all'idrogeno per difendersi dagli americani. Nell'area un devastante sisma, ma gli esperti sono scettici. Ira degli Stati Uniti e nuove sanzioni dell'ONU. E poi, vedete, più in basso si parla di politica e non solo del rio, a parti così si cambia, più trasparenza e tempi certi. E poi vedete in alto questo titolo che riguarda la Lotteria Italia, con i magnifici sei, diciamo, i biglietti che regalano ai possessori cifre importanti, dai 5 milioni di euro fino a 250 mila euro. Andiamo avanti a vedere le altre pagine del messaggero. Vediamo la seconda pagina, eccola qui, con la Corea che sfida il mondo. Terremoto di magnitudo 5.1 e una bomba H, l'annuncio in TV. E poi vedete più in basso questo altro titolo che riguarda il dittatore bambino, che impone anche il taglio dei capelli. Andiamo avanti per parlare di un altro argomento, in questo caso del crack delle banche. Crack banche, decreti blindati per evitare il rischio consulta. E intanto, questa è una notizia importante, Nicastro chiama tutti i risparmiatori. Incontro allargato domani a Roma. È un incontro che riguarda anche i risparmiatori abruzzesi. L'altra pagina, vedete qui di fianco, c'è un'intervista al ministro del Rio, appalti con il nuovo codice, più trasparenza e tempi certi. Andiamo avanti per vedere altre due pagine del messaggero. La prima che riguarda il caos migranti, la sfida dei paesi del nord, pronti a fare da soli, dicono, dopo la sospensione di Schengen, vertice con Germania, Danimarca e Svezia. La commissione dice misure solo a tempo. E poi c'è quest'altra notizia, pagina 7, che ha creato scalpore, proprio nelle ultime ore, donne molestate. Un attacco coordinato è accaduto a Colonia e la polizia è sotto accusa proprio per le violenze di Capodanno ad opera di un migliaio di nordafricani. Era un'azione mirata, queste donne molestate da questi gruppi di cittadini nordafricani. Andiamo avanti per vedere altre due pagine e cambiamo argomento ancora una volta per parlare di unioni civili. In campo anche i Vescovi. Alfano, ministro degli interni, ma soprattutto in questo caso esponente di punta di nuovo centrodestra, dice pronti al referendum. Vedete, Bagnasco dice, il presidente della CEI, conferenza episcopale italiana, non si oscuri la famiglia, il PD cerca la quadra sulle adozioni, area popolare in trincea, ma frena sulla crisi. E poi il titolo, l'altro titolo che riguarda questo argomento, anche se in maniera indiretta, offerta di Renzi ai centristi, un ministero per ricucire, e vediamo l'altra pagina del messaggero, bus e treni a privati stranieri, la rivoluzione dei trasporti, la regione toscana affida ai francesi, la gestione dell'intera rete pubblica, Cremona ha ceduto il 100% dei mezzi cittadini e gli anglo-tedeschi di arriva. E questa è una notizia che è importante perché potrebbe rappresentare un precedente sicuramente da non sottovalutare. Cambiamo argomento, si parla dell'Italia, soprattutto degli studenti italiani, in questo titolo vediamo l'Italia non è un paese per laureati, dopo tre anni lavora uno su due, Italia penultima nella classifica europea, un primato non certo positivo per il nostro paese, che ha uno degli indici più bassi in Europa di laureati ma anche di giovani che dopo la laurea trovano un lavoro. L'altro titolo che riguarda invece un argomento diverso, il CNEL in attesa di chiudere, si regala premi di produzione lente, di fatto paralizzato dall'estate scorsa, aspettando l'abolizione definitiva, a fine dicembre i dirigenti si sono assegnati una indennità di risultato. Proseguiamo con ancora la lettura delle pagine del Messaggero, siamo alla cronaca di nuovo, alla cronaca internazionale, avevamo visto in apertura quanto accaduto in Corea del Nord, qui parliamo della Libia, in Libia l'Isis attacca le basi petrolifere e mette in crisi Benghazi, terzo giorno di battaglia per il porto di Sidra, gli uomini del Califo distruggono gli impianti di greggio sulla costa. Passiamo all'altra pagina, per vedere proprio l'argomento che interessa a molti, l'argomento che riguarda, ecco qui, lotteria a Roma, il biglietto da un milione e mezzo di euro, a Verona il premio da 5 milioni di euro, Caserta, Como, Varese e Fabro in provincia di Terni, si aggiudicano le altre super vincite alla capitale, oltre al terzo estratto venduto nel quartiere Prenestino, vanno anche 750 mila euro, con vincite di seconda e terza categoria. Poi vedete sotto l'elenco dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Andiamo avanti con le altre pagine del messaggero, le ultime due, prima di chiudere, di passare al centro, le ultime due che riguardano la borsa, ecco qui economia, la Cina svaluta, ancora giù le borse, a sorpresa nuova mossa della Banca Centrale sullo Yuan, la Banca Mondiale taglia le stime sulla crescita del PIL al 2,9%, e poi quest'altro titolo, Blackstone vuole gli hotel Boscolo, il fondo statunitense, corteggia il gruppo alberghiero alle prese, con il piano di ristrutturazione di 320 milioni di debiti. Lasciamo il messaggero, torniamo al centro per andare a vedere le prime pagine che riguardano la cronaca nazionale, da parte per quanto riguarda il centro, un attimo che andiamo a visualizzare proprio questa pagina, le prime pagine del centro per quanto riguarda la cronaca, anche qui si apre con la vicenda della Corea del Nord, scusate perché questa prova che è stata fatta con una bomba H, così dicono i coreani, ha creato sconcerto e indignazione in molti paesi. Vedete la Corea del Nord, testa la bomba H, l'ordigno all'idrogeno detonato la scorsa notte, ha provocato tra l'altro un terremoto di magnitudo 5.1, anni di sanzioni non fermano la corsa nucleare del regime nordcoreano. E poi c'è una dichiarazione del senatore Antonio Razzi, che nei mesi scorsi era stato proprio in visita con una delegazione di politici e anche di imprenditori abruzzesi in Corea, se difendi i tuoi cittadini puoi anche affidarti a certe soluzioni, ha detto il senatore Razzi. Andiamo avanti, pagina 4, la sfida a Bruxelles dei paesi del nord, parliamo di immigrazione, Svezia, Danimarca e Germania difendono infatti l'applicazione dei controlli ai confini per l'Italia, il problema degli sbarchi. Poi la vicenda degli abusi sessuali a Colonia, sindaco nel mirino, mentre a fondo pagina c'è un'intervista al presidente della Camera, Laura Boldrini, che dice che bisogna salvare Schengen. Ed ecco qui la pagina dedicata alla Lotteria Italia, gloria anche per l'Abruzzo, con due premi di consolazione, vincite da 50 mila euro a Miglianico e Torino di Sangro, il biglietto da 5 milioni venduto in provincia di Verona. Andiamo avanti per vedere un'altra pagina di cronaca nazionale, poi inizieremo a vedere anche le pagine di cronaca locale, prima, intorno alle 7.20, di ovviamente parlare con il nostro Giovanni De Palma di Meteo. Allora, Palermo, 36 anni dopo, trovato l'identikit del killer di Mattarelli, capo dello Stato, sulla tomba del fratello, ucciso nel 1980. Grasso dice depistaggio per il delitto assolti due neofascisti. E siamo alle pagine d'Abruzzo del quotidiano Il Centro, si parla di trivelle a largo dell'Abruzzo, il ricorso degli inglesi, perché Rock Popper chiede al TAR di sbloccare Ombrina, il Ministero dello Sviluppo a tutti gli elementi, dicono gli inglesi, per firmare la concessione in caso di ulteriori inerzia, la società sollecita l'intervento di un commissario. In basso, Nature promuove la Valle dell'Orfento, sul blog della prestigiosa rivista scientifica viene esaltata la biodiversità della riserva, che si trova proprio nella Valle dell'Orfento, in provincia di Pescara. E poi, dopo aver visto la pagina di economia, e dunque con le borse mondiali a picco, con la Cina, che ha svalutato nuovamente la propria moneta, torniamo alle cronache regionali, parlando di politica, in questo caso di quello che accade all'interno di Abruzzo Civico, che fa i micacci sott'anelli, chiama al rapporto gerosolimo. Il presidente di Abruzzo Civico avverte, infatti, il suo gruppo regionale. Quelle annunciate dall'assessore, dice che sono iniziative personali. E vedete nella foto i protagonisti di Abruzzo Civico, gli esponenti di Spicco, di Abruzzo Civico, e in alto, Sottanelli e Gerosolimo, che sono protagonisti, in questo caso, di questa polemica. E poi autostrade, l'IDV, dice del rio Blocchi, gli aumenti dei pedaggi. Siamo alla cronaca di Pescara, ancora un paio di minuti e poi saremo al meteo. Targa alterne anche per GPL e metano, le misure contro lo smog decise dal comune. Il sindaco Alessandrini, troppo traffico, scelta inevitabile. E poi, in basso, è scontro anche sui bungalow in spiaggia, alle 19. Riunione di maggioranza su talga alterne e piano demaniale marittimo. Coalizione spaccata. E siamo alle eccellenze dell'ospedale civile di Pescara, in questo caso il Santo Spirito. Cataratta Mini Cristallino, restituisce la vista in 24 ore. Già 500 pazienti operati con la nuova tecnica chirurgica, senza ultrasuoni, messa a punto dal primario Marullo, con una multinazionale americana. E poi il convegno al Silaio, nelle nuove terapie allo studio, contro il dolore oncologico. E poi premiato l'ospedale, che è a misura di donna. Tre bollini rosa, vedete il manager dell'ASL, di Pescara, Claudio Damario. Proseguiamo. Commercio, le nuove opportunità. La manicure si fa al bar, tra un tè e un aperitivo. Nuove opportunità per quanto riguarda il commercio nella nostra città. E poi vedete questa doppia pagina, questa pagina portante, che fotografa davvero bene quelle che sono state le manifestazioni di ieri per la Befana. Centinaia di bimbi in festa, dolci e sorrisi della Befana. Iniziativa molto eseguita, soprattutto quella del centro Arca, con la presenza anche dei vigili del fuoco. Vedete 20.000 persone all'Arca, stregate dalla Befana volante. Allora, prima di proseguire con le altre pagine del centro, siamo al meteo per parlare delle previsioni del tempo, con il nostro Giovanni De Palma, che vado a salutare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, Giovanni, cosa ci puoi dire per il tempo? Diciamo, a meno che io sono un po' influenzato, però nelle ultime ore mi sembra ci sia stato un repentino abbassamento delle temperature rispetto ai giorni scorsi. E soprattutto io, che sono un tuo fan e leggo anche le tue pagine Facebook, ho letto, correggimi se sbaglio, che hai scritto che nei prossimi giorni probabilmente potrebbe arrivare il vero inverno. E così, e questo cosa significa? Allora, sì, innanzitutto Paolo, partiamo con il peggioramento che ci ha interessato in queste ultime ore, caratterizzato l'arrivo di masse e l'aria più fredda che hanno favorito non solo una sensibile diminuzione delle temperature, ma anche il ritorno della neve sui nostri rilievi, ovviamente a quote medie. Diciamo che questa è stata la novità. Le temperature in questo momento sono perfettamente in linea con le medie stagionali, ma questa situazione durerà poco perché l'aria fredda sarà ben presto sostituita da masse d'aria più mite provenienti dal Mediterraneo occidentale perché continueranno ad affluire correnti occidentali in pieno alle quali si muoveranno dei sistemi nuvolosi che a dire il vero nei prossimi due giorni insomma non saranno due o tre giorni, comunque non saranno consistenti, ma favoriranno un'intensificazione dei venti e un aumento delle temperature soprattutto alle quote superiori. Quindi si tornerà ancora una volta al di sopra delle medie stagionali. Quindi se da un lato la giornata odierna inizierà l'insegna di un cielo sereno, poco nuvoloso, è previsto un graduale aumento della nuvolosità nel corso delle prossime ore a partire dal settore occidentale dove ci sarà nuvolosità più compatta nel corso del pomeriggio sera e localmente ci sarà anche qualche precipitazione, tuttavia si tratterà di fenomeni di scarsa consistenza. Dicevi tu giustamente che ho anticipato ieri questa novità, se così possiamo dire, la novità è caratterizzata da un probabile cambio di circolazione a partire dalla metà della prossima settimana perché da un lato si continueranno a giungere delle perturbazioni atlantiche ma successivamente a partire dalla metà della prossima settimana se la situazione sarà confermata comunque le correnti inizieranno agli sporsi dai quadranti settentrionali su gran parte del continente europeo. Questo favorirà un deciso abbassamento delle temperature su gran parte dell'Europa centro-settentrionale e la formazione di una vasta area di alta pressione sull'Atlantico impedirà poi l'arrivo di perturbazioni quindi di aria più umida e con queste situazioni insomma non si esclude che alle nostre latitudini possa arrivare il vero inverno perché fino a questo momento la stagione è in ritardo non solo perché le temperature sono al di sopra delle medie stagionali ma comunque perché siamo stati interessati da oltre due mesi così possiamo dire di alta pressione anomala io direi anomala quindi questa è la novità da segnalare quindi poi per gli aggiornamenti ovviamente ci risentiremo nei prossimi giorni Paolo per vedere se confermare o smentire questa tendenza dei modelli matematici perfetto grazie Giovanni dunque in attesa del vero inverno io ti ringrazio ti auguro una buona giornata un buon lavoro ovviamente con te l'appuntamento è sempre con Mattino 6 domani intorno alle 7.20 buona giornata e buon lavoro grazie Paolo una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 ringraziamo Giovanni De Palma ma per restare sempre aggiornati gli strumenti ormai li conoscete bene abruzzometeo.org il sito internet del nostro meteorologo dove potete trovare tutte le notizie aggiornate in tempo reale sull'evoluzione proprio meteorologica che riguarda la nostra regione poi la pagina Facebook del nostro Giovanni De Palma che potete utilizzare anche per interagire con il nostro meteorologo prima di fermarci per qualche attimo abbiamo ancora il tempo di proseguire con il centro con le pagine di Pescara e della provincia di Pescara e vedere anche le pagine delle altre province siamo alla una nuova pagina di Pescara del quotidiano il centro si parla di lavoro attiva 30 precari protestano in versi alla befana ecologica è accaduto ieri e poi in alto progetto del porto le osservazioni inviate alla procura forum dell'acqua città a rischio in caso di alluvione e poi tornando ai lavoratori di attiva gli interinali dell'azienda rifiuti guardate la città quanto è sporca hanno presentato hanno portato delle foto che evidenziano sicuramente delle problematiche in alcune zone proprio in prossimità dei cassonetti di raccolta siamo alla pagina di Montesilvano del centro si parla di refezione scolastica al via le domande per ottenere i sussidi budget di 40.000 euro da erogare alle famiglie bisognose entro il 12 gennaio le istanze per un posto al mercato rionale proseguiamo siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara in questo caso a Francavilla caserma dei Carabinieri la nuova sede pronta ultimati lavori di ristrutturazione appaltati dal comune alla ditta de Cesaris il sindaco Luciani dice attendiamo solo il via libera della prefettura e poi a Manopello dove il comune rimborsa le vecchie causioni sugli lacci idrici e sempre a Manopello albergo del Pellegrino affidato l'appalto entro fine marzo partiranno i lavori per riqualificare il polo ricettivo del Volto Santo e a proposito di Manopello folla di fedeli per il nuovo parroco prima messa nella chiesa di San Nicola con Don Arnaldo la Cioppa infine San Giovanni Teatino corsi gratuiti per fare il pizzaiolo proprio nel centro che si trova in provincia di Chieti siamo alla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara è sempre caramanico la meta del benessere il centro termale piace anche d'inverno a giudicare dal più 35% di presenze San Teufemi aumentano villeggianti ed escursionisti e poi in basso altre notizie che arrivano da Bussi sul Tirino con gli auguri a nonna Maria Pulcina cento anni vissuti con allegria poi a letto Manopello al cimitero servono più loculi e una nuova gestione infine Penne Chiese e Affreschi nel degrado SOS per la Madonna delle Grazie proseguiamo siamo alla pagina di Chieti del centro esami e lezioni senza date 2000 studenti in rivolta l'annunzio riapre dopo le feste ma psicologia nessuno sa ancora i calendari parte una mega petizione online contro il ritardo che danneggia i ragazzi e spiamo poi all'Aquila troppe case sul mercato rischio speculazione Adriani molte imprese dice compra un'abitazione a prezzi stracciati da chi va via il calo della popolazione e dei nuovi iscritti all'Ateneo alla base della crisi e poi in basso il regalo di Silveri nel mirino dell'ordine il presidente dell'ordine dei giornalisti Pallotta dice di dubbia legittimità la ripartizione dei 63 mila euro e poi ad Avezzano la Stati entra in giunta come assessore polemiche in municipio allora ci fermiamo per qualche istante poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6 seconda parte di Mattino 6 eravamo al centro siamo alla pagina di Teramo in questo caso il pugno di ferro procedimento disciplinare per doppio lavoro di Stanislao è stato licenziato dalla ASL l'ex parlamentare dell'Italia dei Valori è diventato imprentitore ed è scattata l'incompatibilità come pubblico dipendente concorsi per 102 posti in corsia in ufficio presto sul bollettino ufficiale della regione Abruzzo quello per 54 lavoratori OS 11 selezioni bloccate perché la regione deve fare le nomine si parla sempre di sanità in provincia di Teramo in basso invece una vicenda abbastanza paradossale chiesti alla vedova 13 anni di bolli sull'auto del marito distrutta la donna vince la controversia davanti al garante abbiamo esaurito le pagine del centro di cronaca andiamo a vedere quelle del messaggero partendo proprio dalla prima pagina del messaggero d'Abruzzo vedete il titolo principale mare inquinamento record pescare i dati dell'arta allarme fin d'ora per l'estate con l'incubo dei divieti di balneazione sotto accusa le decine di scarichi abusivi nel fiume la parola a procura provincia e comune e poi in basso vedete c'è questa notizia che riguarda Avezzano in particolare perché c'è stata la nomina della stati come assessore il sindaco dice a voglia di rivalsa blitz di dipangrazio sostituisce presutti per lei deleghe importanti allora andiamo avanti andiamo a vedere le prossime pagine del messaggero la seconda è dedicata alla politica Borrelli celebra il nuovo Abruzzo civico PD preoccupato vedete questo titolo principale non più federazione rapino nel nostro partito ci sono posizioni diverse sottanelli non ci sta i consiglieri parlano dice solo a titolo personale e poi nell'incanto di pesca seroli tra le montagne del parco andiamo alla prima pagina dell'aquila del messaggero per vedere quali sono i titoli principali ecco qui il primo titolo che riguarda la chiesa di Sant'Agostino oggi la consegna dei lavori a oltre 600 giorni di distanza dall'aggiudicazione parte il cantiere primo lotto da 2 milioni e 800 mila euro per il recupero strutturale dell'edificio e poi una notizia che riguarda la procura procura generale di Torino in corsa c'è anche il procuratore dell'aquila Cardella dunque potrebbe esserci questa importante promozione questo importante incarico andiamo verso il basso della pagina per vedere altre notizie la fontana luminosa i lavori riprenderanno tra marzo e aprile poi vedete i titoli a fondo pagina campo imperatore riapre l'albergo dopo l'incendio e infine il bilancio la piadina è la star della fiera andiamo avanti con le altre pagine del messaggero seconda pagina dell'aquila asilo chip un attimo che riprendiamo la pagina eccola qui asilo chip e ciop pesanti le richieste di risarcimento gli avvocati di parte civile chiedono anche 300 mila euro per un solo bimbo e poi l'università della pace con sedi in bosnia e somalia in basso l'altro natale in ospedale a occuparsi dei piccoli degenti un esercito di volontari infine pedaggi autostradali un dazio in posto e siamo alla pagina di Avezzano e sul Mona del messaggero eccolo il titolo principale che avevamo trovato anche in prima pagina Daniela Stati entra nella giunta comunale di Avezzano l'ex assessore regionale torna tra l'altro ad occuparsi proprio del settore della protezione civile cambiano le deleghe l'uscita di presutti non è più soft i problemi si discutono in comune non fuori e poi vedete sul Mona questa notizia che riguarda la cronaca va al cimitero e sparisce ricerche per un'anziana e poi la tragedia domani l'autopsia sulla donna deceduta Borgo Rose andiamo in basso per vedere altri titoli che arrivano da la Marsica e anche dalla Valle Peligna sul Mona Palazzo Sanità in procura il puzzle della ricostruzione poi ce l'hanno dieci denunce per la maxirissa in piazza a Natale poi scanno impianti di sci tutto ancora fermo infine trasacco vescovo e politici alla porta santa dei misteri proseguiamo con la pagina di Pescara del messaggero mare di veleni inquinamento record dai dati Arta valori altissimi di Escherichia e Colibatteri forte il rischio che l'estate cominci con un divieto di tuffi sotto accusa le decine di scarichi abusivi lungo il fiume segnalazioni alla procura oltre a sanzioni amministrative questo è il titolo principale di questa pagina andiamo avanti con un altro titolo targhe alterne il sindaco tira dritto lotta allo smog infine stop al dragaggio e al nuovo porto questa la denuncia non ancora inisiano infatti i lavori di dragaggio al porto di Pescara proseguiamo con altre due pagine di Pescara e dell'area metropolitana barca licottero e ape con tutti i mezzi l'arrivo della Befana tante le iniziative ieri in città andiamo verso il basso della pagina per vedere anche altri titoli il tuffo di Peppino e Germano in mare per rispettare la tradizione poi alla mensa dei poveri i regali dei vigili urbani proseguiamo con la pagina dell'area metropolitana di Pescara partiamo dall'alto ritorno a Brignano successo garantito stasera al massimo la tappa pescarese di Evil Show 2.0 il nuovo spettacolo del comico romano e poi in basso altri titoli che riguardano caramelle proteste in rima per gli interinali di Attiva abbiamo visto anche dal centro la protesta dei lavoratori degli ex interinali di Attiva e poi la biodiversità la valle colorata da mille farfalle la rivista Nature incorona l'orfento infine una notizia che riguarda qui di fianco Canarini e Pappagalli i pescaressi sul podio questo concorso simpatico proseguiamo ancora con altre due pagine siamo soprattutto la pagina di Chieti del messaggero il presepe dell'austerity fa il pienone in quasi 10.000 a Santa Maria nonostante l'edizione ridotta la maggior parte delle scene allestita l'ex caserma Pier Antoni l'augurio del vescovo Bruno Forte siate come i magi che vanno a Betlemme simbolo di tutti i cercatori di Dio passiamo a un'altra pagina del messaggero si parla di turismo religioso in questo caso al Lanciano via al rilancio due nuovi progetti tra cui un percorso pedonale protetto dal terminal fino al miracolo eucaristico ed un ostello il sindaco Mario Pupillo dice la trasformazione dell'ex istituto De Giorgio prevede un centro di accoglienza per 120 posti a Basto Davalos e Rossetti bilancio lusinghiero ancora a Lanciano caos parcheggi per disabili movimento vita insorge poi in basso ci sono altri due titoli che riguardano ancora Ortona Lanciano e Basto lavori a strade e cimiteri il piano degli interventi della giunta comunale ad Ortona a Lanciano al corso in scena il festival del cioccolato infine Basto più abitanti ma il centro si spopola proseguiamo con la pagina della cronaca di Teramo e poi siamo allo sport chiesa di San Giuseppe in rovina e rischio crollo sollecitato l'intervento dei vigili del fuoco per quanto riguarda proprio la chiesa di San Giuseppe e poi muore in Macedonia 13 anni di bollo da pagare la regione chiede il risarcimento alla vedova palla al garante e poi a Giulianova neoassessore Vasanella e deleghe per quanto riguarda un attimo ecco qui la pagina e deleghe a Mussone infine andando verso la parte bassa della pagina licenziamenti Vecola FIOM pronti ad andare in procura siamo a Martinsicuro infine Montorio un cantiere da 100 milioni Giulia che caos questo il titolo che riguarda proprio questa vicenda siamo alle pagine dello sport del messaggero prima pagina che riguarda il Pescara Oddo mercato niente casini dice il tecnico del Pescara che noi andiamo ad ascoltare in questa intervista in cui parla soprattutto e in particolare proprio del calciomercato 21 partite io non chiederei niente al presidente solo che purtroppo bisogna tener conto del fatto di eventuali infortuni l'età del giocatore squalifiche eventuali playoff dove sono partite molto ravvicinate quindi è ovvio che non puoi stare contro i centrali e basta quello che non vogliamo fare l'ultima cosa che vogliamo fare è fare casino per casino intendo andare a sprovveduta aprire il mercato pescare dove capita noi dobbiamo fare cose intelligenti ponderate soprattutto giocatori funzionali a quello che serve che serve a noi quindi con molta adesso non c'è questa fretta nel senso che dura un mese il mercato penso che per le prossime due partite tra i centrali io e quindi sono più che sufficienti l'importante questo è normale che prima nella fine del mercato qualcuno arriverà con grande pazienza e intelligenza di capire quale sia il giocatore più adatto ma infatti gli innesti che abbiamo in testa di fare sono sono innesti che servono il mancino che mancava il centrale che numericamente manca poi gli innesti due basta compreso no poi è ovvio che nell'arco di un mercato possono succedere anche cose ma sicuramente non andremo a mettere altri giocatori se non ci sono delle uscite nessuno incedibile sono tutti utili e nessuno indispensabile io come ho detto prima non ho chiesto la cessione di nessuno semmai sono loro che quello che ho detto prima più chiaro di così se Cocco vuole stare qui e lottare per una maglia sta qui se Cocco si sente nel grado se Cocco non si sente bene qui non sta bene o preferisce andare a giocare ad altre parti parlo di Cocco ma di chiunque altro verrà vandrà in società lo chiederà e non è che automaticamente andrà via ovviamente perché Cocco è un giocatore che è stato pagato quindi se ci saranno poi lì la palla passa dalla società e se ci saranno le condizioni Cocco o chi per lui andrà via se non ci sono le condizioni sta qua e lotta per una maglia abbiamo ascoltato il tecnico del Pescara Massimo Oddo ma facciamo un passo indietro andiamo a vedere la prima pagina del centro perché quella di ieri è stata una giornata importante la serata di ieri è stata una giornata importante ecco qui la prima pagina del centro per il concerto del volo che ha fatto il pienone al Pala Maggetti di Roseto concerto che è terminato a tarda sera quasi questa notte noi siamo riusciti a proporvi a confessionare il servizio con la nostra Francesca Romanatessi andiamo dunque a vedere le dichiarazioni dei protagonisti del volo dopo il grande concerto che hanno tenuto al Palamaggetti di Roseto il concerto a Roseto per Gianluca lo sappiamo insomma è un concerto molto sentito ma sì già abbiamo avuto l'occasione di cantare a Chieti a Pescara e finalmente siamo qui a casa mia dove sono cresciuto hanno già avuto l'occasione di venire qui quest'estate ci siamo divertiti già amano questa città in modo particolare io poi sono emozionato che cosa posso dire vedere tutti i miei parenti tutti i miei amici è bello vederli qui qui davvero posso si capisce posso davvero vedere chi mi vuole veramente bene chi è qui per applaudirmi e applaudire Ignazio e Piero e quindi sono davvero felice ragazzi da poco di recente è uscito il libro che parla della vostra storia dell'avventura ognuno di voi ha raccontato le cose più significative ce n'è stata una in particolare che avete a tutti i costi voluto scrivere sicuramente il nostro incontro con la musica è dopo il nostro incontro però appunto è stato il nostro libro il libro dove abbiamo raccontato la verità perché sai quando diventi un personaggio noto tanta gente scrive cose non vere e dopo quando hai l'occasione di pubblicare un libro tuo finalmente è l'occasione per entrare a casa delle persone e raccontare la verità quando uno dice la verità non è mai difficile parlare perché è sicuro di quello che è successo e è sicuro che non ha fatto niente di sbagliato quindi se si racconta con tranquillità vuol dire che non c'è niente di male Giulio che infine a te che insomma questa serata è più importante una canzone particolare questa serata per te quale sarà? Beh sicuramente grande amore questa è la canzone che ci ha cambiato un po' la vita è un grande successo per il volo volo che raccoglie successi in tutto il mondo ormai già da diversi anni noi passiamo dopo aver visto il centro il messaggero alla città di Teramo poi ci dedicheremo alla serie D per vedere i servizi delle partite di ieri il piano scuole scontenta tutti questo è il titolo principale del quotidiano la città e poi Abruzzo Civico spaccato in due andiamo avanti per vedere le altre pagine Abruzzo Abruzzo Civico si spacca in due Oliveri e Gerosolimo vogliono allargarsi e lanciano la campagna acquisti Sottanelli e le civiche si dissociano sono solo mosse personali ed isolate proseguiamo con un'altra pagina dalla città di Teramo piano scuole riordino figlio delle pressioni politiche il piano della commissione provinciale scontenta tanti Mauro Sacco dice usati due pesi due misure per realtà simili e siamo a Teramo nuova giunta tra mine vaganti e aghi della bilancia riprendono le consultazioni del sindaco Brucchi attesa per AN poi NCD Dodo Futuro In e l'incognita sbraccia tanti punti interrogativi dunque per la giunta di Teramo saldi centri commerciali meglio del centro grande afflusso la grande distribuzione meno nei negozi in città già premiati dal Black Free Day prenatalizio e poi il caso la regione continuava a chiederle il bollo di un'auto incendiata all'estero 15 anni fa il garante cancella le richieste nei confronti di una vedova nell'auto era morto il marito e poi rifiuti ancora problemi con la raccolta della Teramo ambiente di servizi con la plastica piano della lenta cittadini infuriati la provincia in questo caso la Valle del Fino diventerà una contea il consigliere regionale Luciano Monticelli alla guida del processo di aggregazione dei sei comuni caldeggiato dalla regione e siamo in Val Vibrata veco sindacati pronti ad andare in procura Dozzi della CGL dice l'inchiesta si basa su un piano acustico illegittimo e poi la fortezza di Civitella apre le porte all'arte da domenica al 30 giugno la rassegna internazionale curata da Massimo Pasqualone siamo alla pagina di Giulianova Mosciano il cartellone di Natale si chiude con il flop della Fiera dell'Epifania poi Giulia Servizi sempre Giulianova personale a rischio linea retta denuncia i problemi della vendita e chiede di cambiare il bando siamo ad Atri in pochi anni abbiamo rilanciato la cultura l'assessore comunale Domenico Felicione fa il bilancio del suo operato dopo due mandati alla guida del settore Pineto Mutignano torna ad animarsi per la festa di Sant'Antonio Silvi Comignani prova a ricompattare i suoi sul piano regolatore il sindaco spera ancora nell'unanimità e convoca due riunioni per discutere con Selle il voto in consiglio a febbraio cultura l'arcano e l'eterno Gennaro Manna visto da Sandro Sticca proseguiamo la Befane dei Vigili del Fuoco viene di notte con l'autoscala dei pompieri grande folla anche a Teramo per questa iniziativa e siamo allo sport il Teramo scandaglia il mercato per una punta difficile infantino ipotesi Pektovic se Le Noci torna a Como al suo posto potrebbe arrivare Borghese e poi la Serie D un aerogol di Borrelli condanna il Giuliano alla sconfitta il Fano si impone per 1-0 e poi il San Nicolò torna alla vittoria al settimo tentativo 1-0 con l'Avezzano lasciamo il quotidiano la città di Teramo e andiamo nuovamente al centro per vedere altre pagine che riguardano proprio lo sport in particolare la Serie D perché possiamo andare tra poco andremo a vedere i servizi di alcune delle partite che hanno riguardato le formazioni abruzzesi proprio nella giornata di ieri ma c'è un titolo che riguarda il Lanciano importante smobilitazione Virtus i Maio provano a calmare la rabbia della tifoseria oggi al Biondi la conferenza della dirigenza che sta smantellando la squadra a Paghera all'Avellino fino al 2019 la Salernitana è a un passo da Mammarella abbiamo già parlato del Pescara con l'intervista di Oddo siamo alla Serie D tra qualche istante vedremo la pagina che riguarda il derby che si è giocato ieri al Bonolis tra San Nicolò e Avezzano Merlonghi eroe del derby 1-0 dei Biancazzurri di Epifani sui Biancoverdi Marsigani andiamo a vedere il servizio realizzato da Jacopo Forcella dopo sette tentativi andati a vuoto il San Nicolò torna a riassaporare il gusto dolce della vittoria la Befana porta in dono il derby contro l'Avezzano la squadra di Massimo Epifani a cui basta lo squillo nel primo tempo di Merlonghi per avere ragione dei Biancoverdi Epifani schiera subito l'ultimo arrivato Andrea Cerqueti Brighi e Terrenzio coppia centrale di difesa Bucchi terminale offensivo con tre uomini alle spalle stesso schieramento di Lucarelli con Moro che agisce davanti a Pollino Bisegna e De Santis a centrocampo Sassarini e Censori sono i frangiflutti l'Avezzano ha il controllo del gioco almeno all'inizio e lascia al San Nicolò la possibilità di ripartire e infatti le azioni più pericolose sono della squadra proprio di Epifani che prova con Donatangelo dopo sette giri di lancette pallone però alto molto più pericolosa l'occasione del minuto 11 quando Davino deve ricorrere a tutti i suoi riflessi per disinnescare il colpo di testa di Bucchi prima che Felli allontani il secondo tentativo di De Giglio sulla ribattuta dell'estremo difensore biancoverde il gol dei padroni di casa arriva a metà frazione Merlonghi fino a quel momento in ombra sulla sinistra rompe il raddoppio di De Santis in marcatura con Felli entra in area di rigore e scarica il destro imparabile sotto la traversa nulla da fare per Davino San Nicolò che fiuta il momento positivo e con Maurizio Chiacchiarelli prova a calare il bis destro violento ma impreciso Marsicani che a 9 dall'intervallo ci provano da piazzato con lo specialista Bisegna parabola perfetta se non fosse per calore che ci mette la mano allontanando la minaccia meno emozioni nella ripresa Lavezzano prova a premere sull'acceleratore alla ricerca del pareggio ma trova raramente la strada giusta si passa spesso e volentieri dal sinistro di Bisegna che al 52esimo lascia partire una sassata tremenda che impegna calore alla deviazione in corner Luca Relli gioca le carte di Genova e di Curzio per De Sanctis in Giaia ma gli spazi sono intasati anche se il San Nicolò fa fatica a ripartire quando ne ha le possibilità Epifani toglie De Giglio per Massetti e successivamente uno stanco Chiacchiarelli per Moretti ma nonostante i 4 minuti di recupero non succede più nulla il San Nicolò sfata l'incubo di quel primo novembre 5-1 al Fano che rappresentava l'ultima affermazione in campionato Lavezzano invece si recca le ferite e ora subito la sfida contro la capolista San Benedettese La festa il San Nicolò si lecca le ferite Lavezzano ancora partite di Serie D sempre dalle pagine del centro un pale una traversa fermano ancora la Miternina 0-0 per gli Aquilani in casa con il Monticelli e poi Giulianova punito dal Fano cuore e grinta non bastano i Granata Marchigiani si impongono per 1-0 al Rubens Fadini grazie ad un Eurogol di Borrelli realizzato al quinto minuto della ripresa vediamo il servizio con un Eurogol di Borrelli ad inizio ripresa il Fano passa di misura al Rubens Fadini al termine di una gara combattuta e giocata dalle due squadre senza esclusione di colpi e dopo 8 minuti di recupero senza attacco era difficile fare di più per Ferrante e compagni che hanno però giocato con cuore e gambe e da domani a disposizione per l'anemico attacco Giuliese ci sarà anche l'esperto bomber Elvis Abruscato il Giulianova in campo per 10 undicesimi con la squadra che aveva superato prima delle feste il Monticelli l'unica novità riguarda l'impiego di Marzucco al posto di De Iorio nel Fano Alessandrini manda in campo la formazione annunciata alla vigilia sugli spalti 600 spettatori con rappresentanza ospite dopo la prevedibile fase di studio al tredicesimo Sivilla riceve palla in area si gira e mette a lato ancora Sivilla ci riprova al sedicesimo con un tiro dai 20 metri che però vede terminare la sfera lontano dalla porta difesa da Ursini i ragazzi di Michele e Gelsi cercano di sfruttare il contropiede ma la difesa fanese è sempre attenta nelle chiusure al ventesimo ancora minaccioso il Fano con Borrelli che su punizione dai 25 metri chiama Ursini alla respinta con i pugni Borrelli ci riprova poi al ventitresimo e sempre su punizione con una traiettoria quasi perfetta e con la palla che sfiora il palo con il portiere Giuliese immobile sulla linea di porta la differenza di valori in campo c'è e si vede anche se nella seconda parte di tempo gli ospiti non riescono ad essere molto incisivi al cospetto di un Giulianova che pressa tutto campo e che riesce a rientrare indenne negli spogliatoi per l'intervallo nella ripresa al primo minuto Marzucco si rende pericoloso con un tiro che termina di poco a lato il Giulianova appare più determinato al quarto Nodari forse tocca con la mano su una conclusione di Cerasi in area marchigiana prima dell'Eurogoal di Davide Borrelli che al quinto dai 25 metri mette la palla nel 7 dove Ursini non riesce ad arrivare i gelorossi non ci stanno nell'azione seguente si rendono minacciosi con Cerasi che chiama Marco Antonini alla deviazione in calcio d'angolo la gara si vivacizza con le due squadre che si allungano all'undicesimo di Stefano tutto solo in area viene murato al momento della conclusione da un difensore ospite il Fano passato il pericolo riprende il controllo del gioco andando poi a sfiorare il 2 a 0 al 25esimo sull'asse Favo Sivilla-Gucci con l'attaccante Fanese che quasi sulla linea di porta non riesce ad impattare con il pallone senza una punta di peso i ragazzi di Gelsi fanno fatica a creare problemi a Marco Antonini al 28esimo poi Camilloni già monito va a commettere fallo su Giampaolo rimediando il secondo giallo e così l'espulsione in 10 gli ospiti indietreggiano ma al 34esimo con Sivilla hanno l'occasione per chiudere i conti con Ursini bravo con un miracolo a salvare la sua porta il finale convulso ma dopo 8 minuti di recupero e con gli ospiti 9 per l'infortunio di Nodari il Fano può festeggiare la conquista dei tre punti che servono per accorciare dalla capolista San Benedettese e dalla seconda forza del campionato e chiudiamo la serie dei servizi con il 3 a 0 ottenuto dal Chieti in casa dell'Agnonese Chieti che si riscatta e torna in corsa per i playoff neroverdi trascinati da Dos Santos Fiore e Varone affondano la formazione molisana vediamo il servizio il Chieti passa da autorità al Civitelle Gnagnone e si regala una bella epifania e soprattutto un inizio molto positivo di anno e gironi di ritorno decisivo l'1-2 piazzato da Dos Santos e Fiore dopo la mezz'ora una combinazione che ha tramortito i padroni di casa dell'ex tecnico neroverde Silvio Paolucci in tribuna perché squalificato l'allenatore del Chieti Ronci attinge ai rinforzi delle ultime ore titolari subito il portiere classe 97 Romagnello e il difensore classe 96 Sebastianelli in panchina Pietrantonio in attacco c'è Molenda al fianco di Dos Santos Olimpia priva di Pifano di Ronza e Jallov il croato Peic appena attesserato non è disponibile per problemi legati al transfert il vento prende la vita difficile 22 in campo fase di studio prolungata che si protrae per quasi 20 minuti per poi essere rotta dalla combinazione guida-marolda il primo serve il centroavanti che sopra in uscita Romagnello ma si allarga troppo e la palla sfila via al 23esimo il turno di Di Lollo con un destro dalla distanza Romagnello blocca a terra sicuro il Chieti però ha in fiore il vero valore aggiunto e poco prima della mezz'ora gioca un buon pallone sulla destra va al cross per Molenda che è di testa non trova lo specchio della porta 33esimo nuova combinazione guida-marolda con quest'ultimo che attenta il colpo dalle limite dell'area alto di poco capovolgimento di fronte il Chieti trova il gol angolo di Delgrosso e Dos Santos appossato sul primo palo buca la rete Granata vantaggio Teatino con il gol del solito brasiliano alla rete numero 11 in campionato il Chieti coglie l'attimo al 37esimo raddoppia grazie all'Eurogoal di Nicola Fiore che tira fuori dal cilindro un colpo dei suoi sinistra d'antologia dai 25 metri che fulmina Mancino da rivedere la prudezza del giocatore è tornato nero-verde un mese fa ad inizio ripresa c'è una novità tra i monisani fuori Chiocchia dentro Serrone ma è ancora Nicola Fiore a bombardare da qualsiasi posizione come accade al quarto chiamando alla parata in angolo Mancino il Chieti è padrone del campo e controlla contro un agnonese inerme che perde i pezzi Martinetti si fa male nello scontro con Varone e lascia il campo che Lima ha Cresto ma non trova la porta i nero-verdi giocano sul belluto e il ventitresimo chiudono definitivamente il discorso Dos Santos si appropria della corta respinta di Campanella entra in area e offre sul piatto d'argento il padrone del Trissa a Ivan Varone che insacca senza problemi sesta marcatura per il centrocampista col vizio del gol da qui alla fine accade ben poco Roncini approfitta per inserire Scalbi e l'ex ammiterina Mariani perde il grosso e Sebastianelli al trentottesimo Vitale vede Mancino fuori dai pali e prova a beffarlo senza riuscirci passarella anche per Dos Santos che viene avvicinato da Comini ma il finale è 0-3 per i Morisani è la seconda sconfitta interna consecutiva il Chieti ferma la ministriscia negativa e rilancia la corsa verso i playoff l'obiettivo più immediato però è quello della continuità il derby con il San Nicolò sarà un banco di prova di livello dunque siamo in conclusione del nostro appuntamento quotidiano con Mattino 6 con la nostra rassegna stampa grazie come sempre per averci seguito vi ricordo la prima edizione del nostro telegiornale alle 14 buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti